Buongiorno a tutti, io sono Chiara e su questo canale vi parlo dei quadri più conosciuti e a cui sono affezionata. Oggi vorrei parlarvi delle cattive madri di Segantini. Giovanni Segantini nasce nel 1858 in Trentino, all'epoca sotto l'impero austriaco. La sua vita inizia in salita, rimasto orfano di madre in tenera età, viene mandato dal padre a Milano presso una sorellastra, ma di fatto nessuno si prende cura di lui, tanto che il piccolo Giovanni viene mandato in riformatorio dopo essere stato arrestato per vagabondaggio. L'infanzia difficile e la mancanza dei genitori, soprattutto della mamma, segnano profondamente il suo animo e questo si rifletterà nella sua arte. A 15 anni esce dal riformatorio e rientra in Trentino per lavorare nello studio fotografico del fratellastro, ma dopo qualche tempo torna a Milano. Segantini infatti scopre l'amore per la pittura e così si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera. Le sue prime opere risentono della corrente dell'epoca, cioè il cosiddetto verismo lombardo. Il verismo rappresenta scene di vita quotidiana riprese per lo più dal vero, utilizzando colori e forme che riflettono la realtà. È una corrente per lo più descrittiva, lontana dall'allegoria o dal simbolismo. Segantini è sin da subito apprezzato in Italia, grazie anche al contributo di galleristi che lo sponsorizzano, ma anche all'estero. Vince dei premi e diversi riconoscimenti, in Belgio e in Olanda. Nel momento in cui accumula traguardi professionali, Segantini si sposa e man mano che gli anni passano sviluppa una tendenza sempre più spiccata verso la solitudine e la natura. Nel 1888 con la moglie e quattro figli si trasferisce in Svizzera, più precisamente in Engadina, tra le alpi del canton dei Grigioni e qui si innamora del territorio. La sua pittura trae spunto dalle montagne, diventa sempre meno verista e sempre più simbolista e dalla tecnica pittorica classica, quella accademica del realismo per intenderci, passa al divisionismo. Abbiamo parlato del divisionismo con il quarto stato di Pellizza da Olpedo o con la domenica pomeriggio alla Grand Jatte di Seurat e se siete interessati vi lascio i link in descrizione. In breve il divisionismo è una tecnica che consiste nell'accostare i colori puri applicandoli sulla tela a piccoli tratti separati. Non c'è quindi la pennellata continua di un colore ma tanti trattini e tanti puntini uno vicino all'altro di colori puri. Con la tecnica divisionista Segantini rappresenta scene ambientate in montagna ma che non ritraggono la vita quotidiana, sono immagini quasi oniriche. E qui arriviamo al nostro quadro. È il 1894 e Segantini dipinge le cattive madri. Questo quadro è conservato oggi a Vienna alla Galleria Belvedere e fa parte di una serie di dipinti chiamati dipinti del Nirvana perché a ispirare l'autore è proprio un testo di Luigi Illica intitolato per l'appunto Nirvana. Le opere in questione vengono molto apprezzate dal mercato austriaco soprattutto dal movimento secessionista mentre in Italia vengono considerate un po' strambe. Con il quadro delle cattive madri il pittore utilizza il testo in questione per condannare tutte quelle donne che rifiutano la maternità nella loro vita a favore di una vita dissoluta, a favore della lussuria. Nel simbolismo spesso si presenta il dualismo della donna, il dualismo cioè tra donna mamma e donna femmina potremmo dire e anche Segantini riprende questa contrapposizione. In primo piano si vede una figura femminile che, come nel testo di Illica, è imprigionata in un albero di betulla spoglio ed è tormentata dalle voci dei bambini che non ha mai avuto. I lineamenti di questa donna sono sinuosi, i capelli sono rossi e lunghi e il corpo è in parte nudo. Tutte queste sono caratteristiche che nell'immaginario ci riportano alla femme fatale se non addirittura alle streghe. L'ambientazione è un paesaggio gelido, innevato e spoglio, molto desolato. I capelli e la veste sono mossi dal vento, un vento freddo e si percepisce il tormento dall'espressione del volto e dal movimento delle braccia che quasi seguono l'andamento contorto dei rami. Altre donne si intravedono sulla sinistra e sono tutte in fila, quasi a formare una sorta di sentiero di madri mancate. Anche i colori usati dal pittore sono freddi, chiari. L'impressione generale è quello di una tela molto luminosa ma dall'ambientazione surreale, il paesaggio è silenzioso, si sente quasi solo il rumore del vento e sembra sotto un incantesimo. Qui non c'è vita, non c'è calore, non c'è nulla che ci dia speranza a parte un piccolo dettaglio. Oltre alle donne infatti si intravedono delle testoline di bambini mai nati. Queste teste emergono dai rami e dalle radici degli alberi e una di queste teste in particolare si attacca al seno della donna in primo piano. Questo in realtà è un gesto che dà via a un percorso di redenzione che pian piano condurrà la donna al nirvana. Nonostante quindi l'ambiente circostante gelido, la sensazione di disagio e di tormento, c'è dunque una speranza. Queste donne sono avviate verso il perdono e la redenzione attraverso i loro bambini mai nati. Una concezione magari molto lontana dal sentire contemporaneo e dall'idea della donna attuale, della maternità che viviamo oggi, ma se pensiamo alla vita dell'artista e al fatto che l'opera è stata creata più di un secolo fa, non dovrebbe stupirci tutto sommato una rappresentazione simile. Per quanto riguarda la composizione non c'è una prospettiva geometrica, lo spettatore può apprezzare la profondità dell'immagine attraverso la sovrapposizione delle forme e la loro grandezza relativa. Lo sviluppo orizzontale inoltre permette al paesaggio di essere inquadrato nella sua interezza. Le linee orizzontali quindi sono riservate al paesaggio, mentre quelle verticali alla figura della donna, che così si nota meglio. La donna risalta anche per l'utilizzo dei colori scuri, sia nella veste che nell'albero, in questo modo non si confonde con lo sfondo. E infine il suo corpo inarcato fa questa sorta di C all'indietro, il suo corpo inarcato all'indietro crea un movimento molto scenografico. Stroncato dalla critica in Italia, il quadro ha molti ammiratori all'estero, tra cui l'imperatore Francesco Giuseppe, che lo acquista e lo aggiunge alla sua raccolta viennese. Giovanni Segantini muore di Peritonite nel 1899 a soli 41 anni. Gli ultimi anni vive il rapporto con la montagna in modo quasi mistico e oggi è considerato uno dei più importanti pittori simbolisti d'Europa. Se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo weekend. Noi ci vediamo al prossimo weekend.